Buon poveriggio e buonasera da Giuseppe Recca, aggiorniamo le notizie di oggi, martedì 7 dicembre. Inquinamento dell'acqua a Sciacca, la situazione è ancora piuttosto complessa, si attende l'esito delle analisi dell'aspidi aggrigento. Rimane dunque in vigore l'ordinanza firmata giovedì scorso dal sindaco Francesca Valenti che vieta l'uso potabile dell'acqua in tutto il centro abitato di Sciacca. Le uniche zone non interessate dal provvedimento sono quelle dei quartieri Perriera, Tabasi, Segnazza e Isabella, Sant'Antonio e Sovaretto. L'inquinamento è stato riscontrato in entrata e uscita dal serbatoio Mura di Vega. Ieri sera i carabinieri della tenenza di Ribera hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Sciacca due persone, un 23enne residente del posto, disoccupato e un cittadino di origine turesini di 37 anni senza fissa dimora con precedenti di polizia. I due sono accusati di concorso tra loro del reato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Situazione epidemica in provincia stabile, almeno da quanto si evince dal report di oggi dell'aspidi aggrigento riferito alla giornata di ieri. I nuovi casi di positività al Covid sono 11, mentre le guarigioni sono 20. Gli attuali positivi in provincia sono 621, di cui 13 ricoverati in ospedale. Di questi tre in rianimazione. A Ribera i contagi sono 72, Sciacca 14, a Sambuca di Sicilia sono 9, ad Agrigento 67. Poi ci sono altre città dove c'è un numero corposo di casi come Naro 40 e Raffadali 57. Il comitato di quartiere San Marco Maragari di Sciacca ha incontrato l'amministrazione comunale dopo aver manifestato nei giorni scorsi. Preoccupazione in ordine ad una situazione che si è ulteriormente aggravata. Parliamo di viabilità. Alla chiusura ormai da anni del viadotto Can Salamone si è aggiunta infatti quella dell'interdizione della via Lido. Residente e titolare delle strutture ricettive della zona sono in difficoltà. La notizia è che l'amministrazione comunale ha riferito che sta puntando sulla realizzazione di un percorso alternativo e temporaneo nel tratto di via Lido dove si è verificata la frana. Chiudiamo con il calcio. Si è dimesso questa mattina l'allenatore dello Sciacca Giuseppe Geraldi. Il tecnico ha fatto questa scelta sollevando problemi di dialogo con la società che assumerebbe decisioni diverse rispetto al suo modo di pensare al calcio e rispetto a quelli che sono i suoi compiti di tecnico. Non ci sono riferimenti ai risultati recenti. Lo Sciacca è reduce da due sconfitte consecutive ma un episodio è avvenuto domenica scorsa durante la partita con il caricatì terminato a 3-2 in favore della squadra ospite quando un calciatore nero-verde ha scelto di non entrare in campo nonostante fosse stato chiamato in causa dalla tecnico. Geraldi dice che la società non ha adottato i provvedimenti che lui si attendeva nei confronti di questo calciatore. È tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.